e salve a tutti ragazzi sono qui master wall come sempre carico 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 ok e siamo qui per fare informazione per dare un qualcosa di utile a chi ascolta e non per fare i teatrini ok per fare i teatrini ci sono i teatri ci sono tante cose non è sempre per fare i teatrini li lasciamo ad altra gente certa gente con cui non voglio avere niente a che fare allora l'argomento di oggi è questo la mia prima volta oibon dice ma come master separati queste cose sono un po un po delicate un po intime ragazzi ovviamente sto scherzando come si vede anche dal titolo è la mia prima volta che avevo raggiunto la barriera dei 45 di braccio ok potrei anche parlare della mia prima volta dei 40 di braccio vedete i 40 di braccio per certi culturisti soprattutto neofti intermedi ma anche per certi veterani falliti perché purtroppo nel culturismo ci sono anche i veterani falliti sto parlando natural chi sono i veterani falliti i veterani falliti sono quelli che si allenano da molto tempo molto molto tempo e purtroppo i risultati sono scarsi io li chiamo falliti falliti dal punto di vista tecnico non sulla persona chiaramente non non è un'offesa alla persona è un fallimento tecnico è anche grave perché se uno si allena da molti molti anni e risultati sono scarsi tipo manco cian 40 di braccio faccio per dire non so non fa nemmeno che ne sono 120 di pack a mio avviso per come la vedo io dal punto di vista culturistico naturale è un fallimento è chiaro se invece uno la mette sul piano del fit della forma fisica vado in palestra per fare qualcosa va tutto bene arrivederci grazie ecco quindi il 40 di braccio per molti sono anche questo un bel traguardo e quando lo avrete quantomeno ce l'avete e nell'ambito dei nato le 40 di braccio non sono non sono così frequenti assolutamente la maggior parte dei natura non avranno mai semplicemente per cui anche quello un bel traguardo poi ovviamente come dire ci sono dei livelli superiori io vi parlerò della mia prima volta di 45 di braccio che è una cosa che tratta avevo già fatto anche anni fa in un altro video ma sapete che qui c'è un turnover continuo no quindi sempre bene sempre bene ripetere certi concetti che sono motivanti e anche interessanti al punto di vista tecnico ovviamente qui sto parlando quando avevo sembra sui avevo passati 30 anni di qualche anno adesso esattamente non lo ricordo comunque è stato in quegli anni lì più o meno quindi abbastanza tempo fa ero in fase di massa invernale mangiavo mangiavo perché è importante mangiare guardate in fase di massa mangiare importante come allenarsi quindi chiariamo subito e vedevo che aumentavo di peso aumentavo di peso e ero sui 44 di braccio circa freddo che era già un bel braccio ne lo dico è però io inserivo questi 45 ragazzi inserivo questi 45 e ci davo dentro ci davo dentro a un certo punto in una giornata ricordo che era un pomeriggio mi sentivo particolarmente pieno particolarmente gonfio vi preciso che misurare le braccia conviene sempre farlo in una giornata di cui avete fatto il recupero cioè se misurate le braccia che ne so il giorno dopo che avete allenato i muscoli di spinta non avete recuperato non è una misura reale reale probabilmente potrebbe essere anche una settimana dopo cioè prima di fare la seduta di spinta perché vi dico questo perché c'è stata una settimana di recupero su tutto il braccio soprattutto a livello del tricipite anche del bicipite ma soprattutto a livello del tricipite poi siccome prima di fare la seduta di spinta sicuramente avete fatto colazione spuntino pranzo avete preso integratori sente nella pienezza massima perché guarda che se fate la misura in questo contesto o per esempio non so tipo il martedì mattina a digiuno perché a digiuno già siete più svuotati c'è una differenza misura reale quando il muscolo è pieno non quando è svuotato chiaro beh allora io sentivo che avevo una felpa avevo una felpa mi sentivo bello pieno e soprattutto quando mettevo la mano qua nel braccio vedevo che la felpa era tutta piena come non mai ho detto ma io non mai sentito un braccio così grosso cavolo devo misurare voglio vedere mi stavo misurando vedevo che tendeva un po migliorare però poi c'era stato uno stallamento dopo i 44 più o meno ero lì però questa volta mi sentivo veramente dico lo voglio fare allora mi sono mi sono spogliato devo dire che ero abbastanza teso era abbastanza emozionato magari proprio come le vere prime volte non so perché sentivo che c'era però fino al momento che non verificate queste cose sapete quando ambita una cosa sentite che è lì però affinché non se non avete la certezza c'è questa sorta di così di di ansia no ansia da prestazione e vabbè quindi mi sono messo lì ho messo il metodo sarto ormai ero abituato bisogna imparare bene misurare il braccio quindi ho fatto sempre il metodo standard che fate mettete bene il metro intorno non mettete l'obliquo non fatti trucchetti perché altrimenti è inutile quasi vista gente nei video fare i trucchetti col metro siamo per tanto un braccio se grosso si vede se non è grosso non si vede se una 50 si vede se non ce l'ha si vede allora ho messo il metro e ragazzi è stato come uno sciocco sentito un colpo allo stomaco era un 45 pieno netto bello dico mamma mia ce l'ho fatta se l'ho fatta mai ragazzi ero contentissimo cioè veramente il coronamento di un sogno poi sono dato anche lo specchio fatto dei doppi vicini effettivamente le braccia c'era erano già delle belle braccia lo dico ma c'era quel qualcosa in più poi sotto il principio bello che veniva bello pieno ragazzi uno dirà ma questo qui è proprio cioè master è un pazzo cioè questo vive per queste cose le misure del braccio si esalta ma come messo ma come messo ragazzi quando uno ha una passione ci sono anche queste soddisfazioni qui cioè ognuno ha tante passioni c'è gente che si esalta perché magari che ne so correndo è un runner ha fatto migliorare il tempo che ne so al chilometro dal mio punto di vista è rilevante dico ma per me significa nulla per certa gente incredibile magari nel mondo dei runner no oppure che ne so certa gente che vabbè possiamo andare anche nel mondo dei fortuti nel mondo del powerlifting in quel mondo lì perché poi sono tutte nicchie sono tutti i mondi no uno dentro l'altro il mondo è fatto tutto di nicchie per esempio il mondo dei videogames il mondo dei modellismo cioè ragazzi c'è una roba immensa allora ognuno nella sua nicchia cerca di migliorare no perché poi c'è anche la competizione è chiaro che se siete in una nicchia di di powerlifter naturali intendono i bombaroli che fanno pesi è curioso come certa gente che faceva dei gran pesi ma alla fine questi pesi calano ahimè chissà perché dicevo quindi in ambito dei natura se magari uno ha migliorato il suo massimale in quell'ambito lì magari ha fatto una gara ha vinto e ha migliorato il massimale è per loro è una gran cosa per la gente comune questa cosa che cosa può interessare paolo sai che tizio ha migliorato i cinque chili sul massimale in gara di panca questo diciamo a me che che cavolo me ne frega se la mette sotto questo punto di vista io ovviamente ve lo dico a voi perché credo che in questa nicchia in cui siamo questa cosa interessa e allora vi ripeto che i 45 di bra c'è stata una grande soddisfazione ma molto molto grande e in palestra insomma la gratificazione c'era io mi ricordo che quando cavavo la tuta che ero bello pompato il bracione persone si vedeva anche molti dopati muti molti dopati muti e quindi io vi dico questa esperienza perché so che potete farci anche voi cioè 45 di braccio non è una misura impossibile dal punto di vista natura ovviamente io poi ho continuato la scalata fino ai 52 a freddo in massa e per avere poi i famosi 48 49 diciamo mediamente 48 a freddo misura attuale che ho adesso però questo è un altro tema cioè la scalata poi continuata voi sapete che io ho sempre detto che la vera scalata del braccio comincia dai 40 in poi cioè 40 di braccio sono un punto di partenza e non di arrivo io ho un po usato i 45 come punto di di partenza e non di arrivo quindi sono dato uno scalino superiore allora voi dovete essere sempre motivati a migliorare tutto il vostro bagaglio turistico quindi tutti i muscoli devo migliorare tutto il corpo anche i vostri record personale di forza perché c'è anche questo come gratificazione ma anche la misura delle braccia la misura delle braccia nell'ambito del culturismo ragazzi è un qualcosa di particolare parliamoci chiaro io vi ho sempre detto che le famose tre domande ve lo ripeto anche per chi non ha mai sentito le famose tre domande universali che due culturisti si fanno fra loro due culturisti che non si sono mai visti prima uno di un paese uno di un altro non ha importanza dopo un po che parlano in qualche modo comunicano è chiaro che sei straniero anche diciamo fra persone diciamo della stessa nazione è sempre stato così quando due culturisti si incontra culturisti appassionati quelli vedi eh anche i bombaroli non parlo quelli che fanno fitness a loro queste cose non interessano niente va bene ma i propri culturisti quelli appassionati quando si incontra e cominciano a parlare le tre domande che si fanno sono sempre queste allora fra bombatti la prima domanda è questa ma tu che roba usi sempre sempre ragazzi e quella la cosa imporata così quello no poi la seconda domanda è a quanto hai di braccio quanto hai di braccio guardano le bracci quanto hai di braccio perché si vede quanto hai di braccio non quanto hai di gamba quanta gli che sono misura toraci che non interessa su quanto hai di braccio e poi c'è anche la domanda quanto spingi di banca queste sono tre domande universali e quando uno ha queste tre domande a parte la roba da usare quello è individuale ma alle due domande panche braccio quando uno riesce a dire cose superiori l'altro magari ci rimane un po male perché sperava di avere qualcosa in più vedete tutti i giochetti così che ci sono qui nel nostro mondo chiaramente molto particolari ma ci sono allora i 45 di braccio sono difficili da raggiungere si potete comunque farci indipendentemente dal vostro potenziale genetico si perché non sto parlando di un 50 so forse forse probabilmente conterà anche una genetica ma di cui questa cosa poi non sono neanche tanto convinto perché io genetica particolare non ne ho nonostante molti di grammar perché tu eri dotato nelle braccia non è vero non ne ero dotato perché mi sono allenato per anni le braccia non crescevano quindi dov'è questa dot è semplicemente perché sbagliavo ad allenare e quindi per i risposti sono potete farcela sì potete farcela anche se non avete un potenziale genetico enorme sì potete avere in breve tempo no no non potete avere in breve tempo si parla di anni ci vuole tanta costanza quindi di dedizione per fare avere questa cosa sì ce la faranno tutti a far avere 45 di braccio no pochissimi perché perché pochissimi batterà nel chiodo per per anni 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 la maggior parte smettono prima mollano mollano ragazzi quando uno molla finito tutto però io sono qui per dare motivazione per dare speranza a chi vuole raggiungere questo obiettivo e questa mia missione pormi come esempio top top e dare motivazione a tutti devo dire che per esempio tra i ragazzi che seguo qualcuno ci è arrivato già ai 45 qualcuno sta puntando anche oltre e quindi ragazzi che però va tutto il chiodo per anni stanno continuando perché ricordate qui bisogna andare avanti per anni quindi la motivazione è importante così come fa le cose tecnicamente giuste sì ma anche la motivazione di andare avanti a dritto perché se no insomma guardate che è molto peggio è molto peggio avere avere una motivazione a dritto per anni ma sbagliare tecnicamente tutto perché uno dice io continuo per anni sono motivato sì ma se sbagli stata tecnica non ci arrivi non so se c'è cazzi di capire il concetto così come sarebbe anche sbagliato avere la strada tecnica giusta e non avere la motivazione continuare si fallisce ugualmente quindi ragazzi vi lascio alle vostre considerazioni noi siamo pronti per chi vuole venire con noi di fare assolutamente di darvi il meglio possibile oppure le nostre schede nostri libri manuali poi c'è coaching online c'è fuori messo per chi vuole venire con master quindi vi preannuncio che a novembre adesso vedremo credo verso la fine faremo ci sarà un black friday giusto black friday e dove dove si potrà fare incetta di tante cose generalmente ogni volta che facciamo queste cose qui c'è veramente un terremoto quindi state pronti ok non so quando si dovrebbe fare almeno così detto il nostro webmaster non lo so vedete voi quindi noi vi aspettiamo comunque da adesso che vuole venire può venire già da subito mi ricordo a tutti che noi abbiamo sul sito quando uno entra nel sito italian body c'è il pop up che ha già lo sconto del 20% cosa che forse molti non lo sanno non lo vedono perché molti poi eliminano fanno dei filtri che il pop up viene eliminato ma c'è questo sconto del 20% chi non vede il pop up può richiedere a me direttamente il codice che glielo do io in chat facebook o tramite mail e quindi non vi aspettiamo da subito non perdete tempo c'è ancora diciamo all'inizio novembre fino a fine febbraio c'è tempo ma non indugiate datevi da fare e venite con noi ok grazie a tutti al top grazie a tutti